Benvenuti alla puntata numero 18 per Dying Light 2. Stiamo continuando la missione Benvenuti a Bordo e dobbiamo andare ad incontrare il Mecenate che ha indicato lo One come possibile aiuto, dato che Rainer non ci ha particolarmente aiutato. Dobbiamo quindi variare la nostra strategia. Penso di poter arrivare su passando da il Condotto. Vediamo. Però un po' troppo su direi. Allora vediamo un po'. Ci siamo E non c'è nessuno Luan? Non c'è niente Io keep looking Tanto non è che posso fare altrimenti Il bastone è livello 6, infatti possiamo arrivare a livello 6 Non mi sembra ci sia nulla Andiamo a vedere sopra anche se Infatti, meglio da qui Mi dispiace, dopo tutto Mi dispiace, dopo tutto sembra non ci sia posto per te sull'elicottero Non preoccuparti, ne invierò un altro Devo prima mettere in salvo la collezione Con affetto Li commenta Città del diciottesimo secolo Bozza, campi, impressionismo, vita morte con frutta astratto Signore con cappello rosso, c'è il novesimo secolo Pastori, sedicesimo secolo Sì, lui era un mecenato Quindi aveva vari quadri C'è un simbolo Come fa? Il telefono all'edio estero è ancora funzionante Il vero è tornato alla linea In questo momento arriva l'elicottero Ma poi se arriva l'elicottero Oh, anche questa cosa dell'elicottero è un po' fuori da Dal senso dei rapporti di forza Il vero è arrivato a dare questo Il vero è un Il vero è un po' fuori è un po' fuori da Il vero è un po' fuori da Il sembrava andare a tornare al lato Probabilmente a lui alzare Ok, io ando l'arico E ascolti, questa vodka Danier è un fan di grande Se si trattano a venire Cosa probabilmente non Ma se si chiede a capire questa città Questo è il modo Cosa dire Posso scegliere quale cosa fare E Fai la festa di Denior è opzionale Quindi andiamo alla festa di Denior prima Perché se no Poi magari finisce quindi Festa di Denior Dritto per dritto Ok Sono pronto ad andare Tra l'altro la missione è livello 3 Siamo livello 6 praticamente Quindi Asfaltiamo off screen Ovviamente ho fatto varie cose Varie secondarie Niente di rilevante La secondaria più importante Era quella di Eitor L'abbiamo fatta L'abbiamo fatta L'abbiamo fatta In video Ma cosa? Voglio scendere io Non è che devo urlare Niente Si è schiantato e basta Non è partito mai Vabbè che ho finito la stamina E si vola Ormai si vola per la città Andiamo a questa benedetta festa Vediamo così conosciamo meglio la città La festa è sul tetto Qui piace i figliatori Sì giustamente Sì giustamente Oh Non è che se Non ti dici il birthday Non ti serve un nero venuto Sto qua tanto a te Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Perché il dono? La wand dice che è il tuo birthday Quindi pensavo Non ti pari Io capisco il concedere Il mio figlio di un tuotit Un dono di strengths Per rinforzare Ehm Ok Ah Ecco Succhi di bordo Veramente la tua faccia non dice questo Volevo dietro Quello è Roe Va vestito, così Volevo, sai come stessi possono essere a volte Volevo le ordini, non rendono nessun senso Volevo l'uomo per farlo Oh, sento te, trattami Quindi, hai fatto Luan won Buongiorno, sveglia Quello che hai imbucato Che fai in giochi? Si gioca? Ok, facciamlo My man! Le regole sono semplici Volevo rispettare una domanda personalizzata Per te, o Devi fare il dare Ok, quindi se non voglio rispondere la domanda Ho potuto prendere il dare Volevo? Decidiamo se sia la vera o dare Se non facciamolo Se non facciamolo No Non so se c'era nemmeno forza C'era la possibilità allora perché sennò Diciamo che l'hanno fatto per far conoscere i personaggi e far conoscere le dinamiche quindi No, 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 no No, 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 no Aiden Tu giocati con Ro e Io ti Drei Perchettare la chiedere di Ro E' Esa Ogro Bene, belle domande. Paccato la decidazione è veramente brutta. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Per la seguenza. Ok, è sufficiente di questo. Quali cosa vuoi chiedere al mestre assassino? Io sempre ho chiesto di questa lista. Poi certo, sti dialoghi tutti così. Non c'è nessuno che ho dovuto fare in order to survive. Ok, come cosa? E' una altra domanda. Drake? E' una altra domanda. 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 Frank mi aiutato. Mi ha mostrato che c'è qualcosa di più che posso fare con tutto il mio angolo. L'ora io pensavo che io avrei chiesto di loro. E' una altra domanda. E' una altra domanda. E' una altra domanda. Non sono una spazio di nonno. Ma almeno ho la mia lista. Ma almeno ho la mia lista. Ma almeno ho la mia lista. Ma non così facile. Sì, vabbè c'è manco bisogno di fare così. Cioè lui avevamo chiesto dei figli. Ma te ti ho chiesto dei peggio. S'ha fatta una certa, sì. Ok, si è fatta una certa. e neanch'io volevo giocare perché non stai giocando con me questo è rimasto qua tutto il tempo a sentire i racconti di tutti, ma chi sei? chi sei? ma poverchè ti abbiamo parlato chi sei? vabbè i misteri buon bevuto sei più rilassato è diventato il mercante risentivo il quarto sei nudo è nudo dove è la van? ho visto la con te ora abbiamo giocato il gioco e ho chiesto la domanda sbagliata quello che gli ha chiesto della famiglia gaggio, gaggio ti ha fatto pensare del passato e non ti ho detto questo perché ti piace non ho capito perché ti ho detto questo perché sei un ubriaco e vai in giro con i sacchetti di roba addosso non ho mai chiesto la van del passato capisci? che devo fare tutti i matti va bene siete matti bravi tutti andiamo a parlare con Joan di nuovo però il bello della next gen comunque o diciamo del pc è che la nave che è l'obiettivo dove dobbiamo andare si vede sullo sfondo un tempo sarebbe stata veramente molto lontana o non si sarebbe proprio vista cioè non si sarebbe mostrata un po' ... No, 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 no. Volevo vedere se facciamo un minimo di effetto standardo, ma non lo fa. Ho tirato parte la musica, ovviamente il mixaggio della colonna sonora, colonna sonora in generale, veramente brutti. E si fa il giro. E ci siamo. Più e più entro. No, qui non me lo fa rispondere, non me funziona. Posso rispondere a tutto, dire cose, ma come posso rispondere? Tu devi ringraziare al cielo che non ti ho tagliato la testa, non si capisce perché. Infatti, oh, gliela fa. Ma il bottiglio è uguale a quelle che ha già. Peccato che ne ho 27 milioni di bottiglie, non ci faccio niente. La lentezza nel fare le cose. Bene, adesso possiamo parlare di affari. Cosa volevi chiedermi? Io voglio arrivare al punto in cui se mi avvelena poi lo devo uccidere per forza, anche perché il gioco non è che può finire. Cosa voglio dire? Tu hai scoperto le mie difese. Quindi, sei ancora dopo quei lampi. Matt ti diceva perché le voleva? E perché le voleva davvero? Sì, per prendere controllo della tavola. Sì, è vero? 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 Matt wants to prepare to defend the city from the Butcher's coming attack. So, we should start building him a monument, right? Only problem, the Butcher isn't planning any attack. How do you know? Because we have my eyes among the renegades as well. Since the end of the war, we have occupied the city center while the colonel squats in the dam. One push of a lever and half the city will find itself. under toxic water. The colonel is not stupid. He knows war would be the end of everything. So, why did the Butcher attack the canteen? That's in the city center. Good question. Maybe it wasn't the colonel who gave the order. Something more is going on. It's something we don't yet understand. It can be nearly with the lamp. Why does he want them, then? Jack is hiding something. For a while now, he's been ordering way more lamps than he could possibly need. And then some of those lamps always disappear. No accounting for them once we deliver. Stava anche male, Toshiba. Che si stia trasformando? Più degli altri, però più degli altri. And here, friend, the mystery takes flight. Jack never got over the fact that he didn't defeat the Butcher back when he had the chance, years ago. He knew that if he attacked the dam, the colonel would close the floodgates. And the rising water levels would push the chemicals up out of the ground, burning through everything that lives in the city. And it's been a stalemate for over ten years. Each waiting for the other to make a move. Or forse perché lui è più vecchio. L'effetto delle lampade finisce. È l'ora. Allora. Addirittura. Addirittura questa scelta clamorosa. La scelta clamorosa che però, cioè, che vuol dire? Devo tradire lui per... Che poi qua facciamo. Che stiamo con i primi e poi trucidiamo tutti gli altri. E poi dopo dopo stavo i secondi che abbiamo trucidato prima. Per poi dopo ristare con quelli che... No, però questo ho già messo l'antipatico da prima. Quindi se devo proprio scegliere fra i due, preferisco stare con Jack e capire quello che succede. Però secondo me non è che cambia se aiutiamo lui. Non, però poi non è che ci sia. Non è che non è che lui aiutiamo per fare un film di te stesso. Non è il vostro amore, Aiden. È un peccato di non vedere. Tu prendi i nostri lampi. Tu devi solo parlare con Demolan. Il chi è? la fine se le lampade ce le dai anche queste scelte l'improvvise con me o con non me perchè secondo me non era da scegliere voglio dire se mi vuoi aiutare mi aiuti e facciamo relazioni singole perchè non è che tradisco Matt mi avrebbe comunque dato le lampade non è che non me le avrebbe date però comunque abbiamo deciso di stare con Jack Matt direi che avendo finito la missione questa puntata termina qui puntata breve tanto poi c'è la missione successiva fatemi sempre sapere nei commenti voi cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo episodio